Camerano per iniziare bene l'anno e rilanciarsi in classifica, San Giustese per continuare la sua corsa in alta quota. Queste le premesse della sfida del Montenovo fra le squadre di Luca Montenovo e del tecnico Cudini. Una sfida condita anche dalla voglia dei gialloblu di vendicare la sconfitta netta subita all'andata contro comunque una delle migliori squadre del campionato. Il match inizia in maniera equilibrata. Il primo vero tiro della gara è di Cerbone al diciassettesimo ma la sua mira è leggermente imprecisa e la palla termina fuori. Un minuto dopo ci prova Francia su punizione. La sfera viene deviata dalla barriera e termina a lato. Quindi tocca a Minella sul cui tiro interviene bene il portiere di casa Verdicchio. Dopo aver difeso bene il Camerano viene fuori e al primo vero affondo colpisce. Cecchini lavora bene un pallone per Mattia Santoni. Il suo tiro viene respinto da Cudini ma lo stesso Santoni è pronto per il tap in e realizza l'1-0 per i padroni di casa. La Sangiustese prova a replicare. Lo fa al trentunesimo con un colpo di testa di Minella e al trentasettesimo con una conclusione dal limite dello stesso Minella. In entrambi i casi senza fortuna. Al trentottesimo si rende pericoloso invece di nuovo Mattia Santoni che chiama in causa Cudini. Tiro respinto coi pugni e 1-0 che resta quindi tale sino all'intervallo. La ripresa si apre con la Sangiustese che preme subito sull'acceleratore a caccia del pareggio e che lo trova al minuto numero 8 con Minella, sempre lui decisamente il più attivo degli ospiti, colpendo bene alle spalle di Verdicchio su cross ben calibrato da parte di Francia. La rete subita scuote questa volta il Camerano che si riporta subito in avanti. Giallo-blu pericolosi al ventesimo quando Mattia Saltoni colpisce bene di testa ma trova Cudini pronta ad effettuare una grande parata. Al trentaquattresimo ci prova senza fortuna anche Bondi. Poi al quarantaduesimo il momento decisivo del match, la doccia gelata dei locali e la gioia ospite. Cross ben calibrato dalla fascia, Minella, ancora lui e sempre lui, è il più lesto di tutti e di testa in sacca il gol del vantaggio e quindi della vittoria ospite perché per il Camerano è il colpo di grazia. Nel finale i giallo-blu infatti provano a spingere a caccia almeno del pari ma la difesa della Sangiustese regge il colpo e la squadra di Cudini porta a casa l'intera posta in palio, balzando così in testa la classifica anche se con una partita in più del Fabriano Cerreto.